Eccoci, buongiorno a tutti, parliamo di narcisismo, termine che ultimamente è parecchio inflazionato, spesso abusato, sembra che qualunque persona faccia qualcosa che non ci vada bene, possa essere etichettata come narcisismo, quindi al di là della tanta informazione, ma anche male informazione che si trova in rete, proviamo a fare ordine. Partiamo da questo importante presupposto, che il disturbo narcisistico è un disturbo di personalità innanzitutto, che appartiene al cosiddetto cluster B, cioè quei disturbi di personalità come ad esempio il disturbo istrionico, il disturbo borderline, il disturbo antisociale e appunto il disturbo narcisistico di personalità. Ci sono delle caratteristiche che lo contraddistinguono, che possono essere individuate in otto, nove elementi, che provo adesso a ordinare. Innanzitutto c'è un sentimento grandioso di sensazione, di percezione di sé, che porta la persona ad ingigattire i propri risultati, i propri successi e le proprie azioni. Grande tempo viene speso a fantasticare il proprio successo e il proprio riconoscimento. Ci si considerano in qualche modo speciali, si richiedono trattamenti di tipo elitario, c'è tutta un'attenzione, diciamo, legata all'ammirazione che viene richiesta, viene pretesa dalle persone, da chi si ha accanto. C'è uno sfruttamento e una manipolazione delle relazioni interpersonali, un'assenza totale di empatia. C'è spesso dell'invidia e un atteggiamento che può apparire presuntuoso, superbo e arrogante. Queste sono le otto, nove caratteristiche che contraddistinguono la personalità narcisistica. Ne esistono poi ovviamente tanti diversi tipi e tante diverse sfumature. Si parla ad esempio di narcisismo sano, cioè quelle persone che hanno una personalità comunque con dei tratti di questo tipo, ma che riescono ad essere anche prestazionali e funzionanti nella vita. Si ascrivono a quella categoria di persone assertive, a quella categoria di persone ambiziose che comunque non gravano eccessivamente sull'altro, nonostante ovviamente abbiano degli atteggiamenti che possono essere ascritti in questo tipo di comportamenti. E c'è un narcisismo maligno all'altro polo, cioè quindi quello che viene identificato proprio come una personalità psicopatica, quindi dove c'è una visione arcigna del mondo disillusa, aggressiva, manipolatoria, pretenziosa, forte, arrogante, prepotente. E all'interno ci sono tutta una serie di sfumature, le cui due più grandi principali hanno a che fare con il narcisismo chiamato covert, cioè coperto, o overt, cioè manifesto. Il narcisismo covert è caratterizzato da tutte quelle componenti e tratti di personalità per cui la persona appare solo, ripeto, in apparenza ipersensibile, delicata, fragile, ma di fatto è un leone addormentato, ossia mette in atto questa manipolazione passivo-aggressiva per cui fa avvicinare a sé la propria vittima per poi fagocitarla, o il narcisismo chiamato appunto di tipo overt, cioè quel narcisismo manifesto plateale, esplicito, che si avvicina ovviamente al polo estremo della malignità. Queste sono le caratteristiche principali del narcisismo e le sue sfumature. Come ho già detto, il narcisismo è un disturbo prima di tutto di personalità e non è tutto ciò che invece si sente in rete che solitamente ha a che fare più con un sinonimo, diciamo, di una persona cattiva, di una persona un po' stronzetta, se vogliamo, per cui è egoista e pensa esclusivamente a sé. L'eziologia, quindi le cause che determinano l'insorgenza del narcisismo, è stato dimostrato come possono essere principalmente una commistione di due tipi, cioè da un lato ci sono degli aspetti prettamente ereditari, dall'altro degli aspetti situazionali, quindi sicuramente l'infanzia, come è stato cresciuto, le persone che si sono prese cura appunto del futuro narcisista hanno sicuramente un impatto notevole appunto sullo sviluppo della personalità, come è normale che sia. E la sua incidenza, e qui arrivano le brutte notizie, o meglio, le brutte notizie per chi si nasconde dietro questa etichetta, è relativamente bassa, nel senso che si stima che circa l'1% della popolazione sviluppa appunto o ha un disturbo narcisistico di personalità con una prevalenza sicuramente nel sesso maschile rispetto a quello femminile. Questo per fare un minimo di chiarezza e mettere qualche punto fermo sulle caratteristiche che ha il disturbo narcisistico di personalità. Poi nei prossimi video andiamo a vedere come questo può essere declinato nella vita quotidiana, come ad esempio le relazioni amicali, sentimentali o familiari. Presto!